Presidente D'Alfonso, per questo importante progetto dell'Enea, l'Abruzzo candida il sito di Manopello, lei ha detto in conferenza noi contiamo di poter vincere questa sfida. Ci sono 500 milioni di euro di investimenti con 1500 posti di lavoro come ricaduto occupazionale su un sito che è particolarmente sotto utilizzato, è quello dell'interporto di Manopello, per quantità di poco utilizzo assomiglia alla stazione ferroviaria centrale di Pescara, anche per questa struttura adesso presenteremo un'idea di pieno utilizzo. Noi siamo in competizione con otto regioni, per nove siti candidati alternativi noi siamo convinti di poter vincere questa competizione per una serie di circostanze di contesto, la vicinanza a centri di produzione di eccellenza di fin meccanica, la vicinanza all'università, la vicinanza al casello autostradale, la vicinanza cioè di una serie di elementi che fanno crescere come candidatura leader quello del sito dell'interporto di Manopello. Io credo nell'arco dell'ingresso di questa primavera e del buon avvio della primavera sapremo come siamo andati dal punto di vista dell'istruttoria, dell'analisi comparativa delle altre regioni. So che il Veneto ci sta scommettendo molto, allo stesso modo la Toscana e l'Emilia Romagna, però abbiamo motivo di ritenere che vinceremo noi. Sostanzialmente si realizzerà un impianto che si chiama appunto Tokamak che è realizzato tramite un cilindro, un cilindro con delle spire dove avviene questa fusione, però è una fusione che viene ad alte temperature di alcuni atomi prescelti. Quindi questa fusione va a liberare un'energia, che però è un'energia pulita perché è completamente differente, è stata una fusione invece alla scissione nucleare che creava delle scorie e tutte le problematiche anche legate agli incidenti. L'Enea ad esempio ha segnalato che non ci sono delle problematiche relative all'incidentalità così come si rilevava nel passato con gli esperimenti nucleari che conosciamo.